Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua, per vedere tu una sfinca Va bene, allora Angelo Tuna è ovviamente Angelo Tuna? È giusto, sì, però i P.G. sono... Comunque, mettiamo qua Calos Ma non so, a riguardo i chumps, il bello stage wise Però sicuramente, vantaggio per avere uno stage grandino, espanso, per Rob, potrebbe essere Travesse a me, però L'altro canto, comunque, non so quanto sia alto, penso sia molto alto, anche quello Quindi, non so chi l'abbia scelto, ovviamente l'abbia scelto Ovviamente c'è l'altro, cioè io non andrei a espossimare, non puoi fare alla fine No, più che altro l'hugger combo funziona, però ovviamente Solo in fair Sì, anche quello, ma effettivamente proprio il ceiling che è molto alto ti permette di fare poco e niente No, nel frattempo se ne finisce di mischia, continua comunque a fare giustamente Raccare damage molto buono in ogni caso Anche se adesso partirà l'angelato, ti pregrabba, ti sotterra E' un po' che altro vedo molto il pattern nella partenza Che quando nel suo avvento il site, comunque, i suoi danni li racca molto bene in quel caso E' effettato molto bene Tutuna sta gestendo molto bene l'illage guard Sta giocando bene Sta bene, bravissimo Ok, molto dopo Ok Ecco qua, da un tit, prova le grau, bravissimo Prova una che tira il jab Justo per non farci grabbare Sì, certo Già Almeno deve contestare col grau perché se no... Non deve contestare col grau perché se no... Sì Comunque, da 91 penso che sia molto pericoloso già essere in quella situazione lì A down throw ti fa poco più Credo che... Una sappia il flashare, però... Sì, comunque, nonostante tutto, comunque ricordiamo che lui gioca Robo Quindi sicuramente questa felicità non accade Sì Non c'è capace un secondo senza che ti fanno Uh Uh Sì Mi ragione di voler aprire il tavoletto Ok, ecco qui, arriva la magia Aspetta Uh Aspetta troppo Ok, non si aspettava che il Mirdodge C'è una guarda che mi ha messo la volta di mano E' che molto spesso la gente non vuole uscire, vuole uscire presto e vuole scappare molto Bravo Eh, sta giocando bene Si Sta gestendo molto bene l'illage Sta gestendo bene l'illage E' l'illage E' l'illage E' l'illage E' l'illage E' l'illage E' l'illage Ecco qua Provato Provato la scelta aggressiva Qui Purtroppo gli ha costato un po' d'angelo Anche se il danno comunque di Tuna è un po' alto Quindi è... Non dovrebbe... Cosa è successo? La prima volta che vedo tu fare una pena Non ho mai visto quella La moscia di dare Ah, bravissima Ho provato il tuo mockup smash Di nuovo Di nuovo Non sbaglia l'up smash Ho qui Tutti errori Uno dopo l'altro Oh Tutti di tutto passa sopra Stava veramente fisciando un sacco con l'up smash Ma dunque perchè no Il casco Il casco In particolare Oh Sto ne ha con altre stock ancora Non si muore Non lo vuole rinunciare Anzi Vuole iniziare Adesso con la rage potrebbe fare Molte cose Ok Bravissimo Prova a gebbare con l'unica Nel tentativo magari di un po' solo club Eeeh E qui veramente angelo fisca È molto E qui E qui 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 Angelo veramente Si è fuso un pochino troppo La percentuale era sempre più alta Lefeb Probabilmente era Probabilmente più arrabbiato che mai Rage Era incazzato Si Di furia davvero Non di nonico 1-0 Si Sto Mario ora Su cazzo Tanto risate demoniache dietro Di noi Ma facciamo finta che non Finta che Finta che impazzisce Allora Allora Sicuramente adesso Small Sì Small Penso che sia comunque Buon stage per entrambi Credo Forse un po' di più per Mario Si sicuramente un po' di più per Mario Non so Almeno Personalmente Non credo che ci sia Così tanta Disparità Comunque In favore Entrambi hanno le loro cose Si 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 Il fatto che poi le piattaforme sono più basse Magari può aiutare bene Per l'altro combo Con Mario E l'altro canato comunque La La Pressione anche da sotto In realtà c'è molto alto da aggiungere A coprire Ma Noi non lo abbiamo Esatto Noi siamo Noi non siamo tecnici Siamo mid tier player Non credo niente Anzi Probabilmente Non sapevo neanche cosa sia Mario E' il caso Per tre anni Si è preso una carbonica Si è preso una carbonica Ok qui non poteva gestire Ok Desettino Prova il picchino Probabilmente un bis click Oppure si aspettava che Robo andasse proprio più dietro Noi non c'è Da un tilt Mi sa che ti può garantire Cioè da un tilt È un color garantito Un po' a pale E' un po' a pale E' approvato E' ha clasciato molto bene Un bel fail Cazzo E' stata una scelta eccellente La partitura Questa Ma non in fiamme Come al solito E' ecco qui partono un po' i desertini Ma lo scudo di Angelo rimane E' correttino A rimanere in vidro La fresh che sta facendo La fresh che può fare varie su shield E' assurda Assurda Un errore Comunque un po' riprenderò La dentro Robo che non ha proprio le migliori opzioni A good shield Beh si è vero Però Ha comunque le sue Cazzo Cazzate Si si Ieri al di me Si Cazzo fatto ieri Eh Qua prova il grabbino Ma Qua sta veramente Sta veramente Fisciando per sta kill Si Già prima Capivo il 285% Si poteva uccidere molte cose Adesso però Ok Adesso ho fatto la scelta giusta Abdo Schiacciato Desistato proprio Ok Tuna ha deciso di passare un pochino ai proiettili ma non è durato veramente un sacro Giustamente Rob per fare un pochino più di danni che fai un po' di fiamma Oh bravo qua Letta una roma Non mi è piaciuto quelle cose Panico Si A me Angelo si sta un po' cagando sotto Eh Angelo lo vedo un po' troppo spesso quando Si trovi in una situazione proprio di svantaggio e di pressure Lui si caga molto addosso Non muore nulla E lo si vede un po' con corti sleep che mi diceva Eh sì sì Ha detto non è dolce Esatto Adesso Tuna gli sta entrando in testa Eh sì Proprio detto papale papale Sì sì Proprio Eh mamma mia Qui non sta cessando comunque Non sta cessando Ma aiuta Angelo veramente non ha tempo di voler sapere E adesso Dove essere morto No No perché Però può comunque stare lì fuori Proprio lo smash molto bravo Una salta è veramente veramente bene Ok 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 Qua la pazienza sta ripagando molto bene Perché Angelo sembra essere un po' più impaziente sulle cose che sta facendo In questo momento Guarda Ci senti quello che lo sclicca un po' E Infatti adesso fuori Becchietto Ok Oh Stavolta non ha funzionato Eh sì 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 In più dello sclicca Ha provato troppo A rientrare A fare azioni aggressive Ma Si è preso L'ammazzata Si è preso L'ammazzata Si è preso la chat Si è preso la chat Va bene Si tira fuori il telefono All'ammazzata Vabbè 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 Che io di solito metto proprio ints Niente Ho ovviato un'applicazione Quella Ho messo Si ho messo i salvaggi Così letteralmente si vede online Ecco Ho ovviato Qualcosa che noi abbiamo ovviato Ok Ecco Non tornare Questo dovrebbe essere L'ultimo game Si Match point Per Tuna Eh ok Se va come le altre volte Cioè O hanno E fischi qualcosa Non lo vabbè Eh o Qui è Adapted Grave Molto semplice E anche Boh Non lo so Magari Essere umani La vita La vita è molto semplice Ma Siete voi che state aggiornando Mamma Si Si Oh Oh Peccato Peccato Per Per Tuna Cioè Ha mancato di fuoco Sono spaventato Per un momento Eh Oh Sta partendo Le fuoco Tuna No Sta continuando Ha pancato il sorbeo Per gli uomini Ma Impazzita Le fuoco Ma Giustamente Prova Prendere il gyro Prendere il gyro Ricordiamo che è più difficile di prendere l'oppo Ha compito il gyro Ma ha compito il suo stesso gyro L'ha allontanato Poi lo stai di nuovo Prendere il gyro Ma Prendere il gyro Prendere il gyro Tuna Hai capito Ma è partito di foto Ma è Ma è Ma è Sta tanto in quel momento Il caso che oggi ha fatto anche il piano Non so che però tu ora comunque non puoi fermare il culo non puoi pulire il culo lì ci rolla non ci provi nemmeno intanto Angelo se ormai è già partito di nuovo a 70 oh nooo Super Mario Super Mario time partito questa conversione è molto veloce Angelo deve lavorare il triplo per ormai recuperare questo e qui oh no 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 se aveva preso bene il reset partiva malissimo l'ha pazzo ok continua continua ha provato il reset oh ma qui cancella poi il giro a stomponi i dropkicks lo stanno aiutando molto bene ok questo oh bello bello downthrow vediamo non dovrebbe uccidere perchè eh ok ti hai anche sbagliato non so se il giro sarebbe ah beh no lo smixe col gyro questo questo quel fare proprio ok oh come al solito qua è anche un point comunque a riflettere molto si si lo prende no ohioioi oh neanche la sua stavolta è un app special abbiamo il 130 quindi siamo molto vicini ok nooo voleva preparare qualche cosa stava proprio cucinando qualcosa tu no tu no vuoleva cucinare una come il deal expect finale infatti oh nooo oh comunque sta sbubb sta sbubbando tu la sta ballando col gyro ormai è nato tuttunno ohioioiog ma siamo la nian啊 che è cazzo ma che è cazzo opera linchri ma ci ha realizzato l'alto emo ci ha fallato sopra ha assignato un soggetto chearlia and�� o oggi